Allora, ho fatto delle domande su Instagram, ho detto fatemi delle domande infamie, adesso parto dall'ultima Pro o contro agli incidenti stradali? Come cazzo fai a essere pro o contro agli incidenti statali? Che cazzo di domanda è? Io ne ho fatti un paio di incidenti perché sono deficiente, quindi sono pro agli incidenti stradali No, li so, sono contro naturalmente, non fate i deficienti mai Vivo già senza la figa quindi vivere senza la figa Easy Membro di mela che ti sta più antipatico e quello che ti sta più simpatico Membri di mela, ma perché volete proprio queste domande del cazzo? Più antipatico Capo di Squared perché sta con Sibia? In che senso? Ti risolto, no, sto scherzando Ma nessuno, che cazzo c'è che mi sta antipatico? Che ti scoperesti tra le ragazze dei membri di Mela Godo? Devo dirlo, devo dirlo, devo dirlo Non me ne è a fare a male Non me ne è a fare a male Allora Sempre Lo dico? Lo dico? Lo dico? Lo dico? Ditti due Ditti due Porca puttana Sì Ho provocato il mio pestaggio, ero tipo in prima media Sono andato da quelli di terza media E ho detto loro siete dei di merda Dei di merda E loro vanno uno da un braccio, uno dall'altro E vanno cominciato a sbattere al muro Farai mai un'orgia con la Mela Godo? Che cazzo vuol dire? Ma in che senso? Già fatta Già fatta Ucchileo mostra il culo, show ass Tete, piedi, gamba, polso Cazzo è che sta male, io voi Sessualmente repressi siete Se un giorno ti svegliassi in un corpo di una danna Qual è la prima cosa che faresti? Mi ficherei Arturo Tutto quello che più lo conviene per le mani Tutto Belle domande ragazzi Belle domande un cazzo Perché la metà erano sul sesso Che cazzo Andrei grazie dei due mesi Bello bentornato Ciao Federica La tua ragazza Federica che segue le tue live con me un bacione Federica Perché è veramente Federica? È una ragazza che si chiama Federica? O Federica Federica? 180 e 190 all'altro È buono anche quello Sono mongrel, sono mongrel, sono mongrel Sono mongrel frate Sono mongrel Mi hai discusso Vabbè L'ho visto in diretta Oh, sono maschate per l'anno Amici, amici Ehi, mi hanno sbagliato con un cecchino Tu potrebbe segnare in tre lingue diverse Marzano, a me è 40 Che c'è? Posso fare 40 massimo Euro? No, giro Se vinco la World Cup viviamo insieme Sì Ma Marzano guarda dov'è Però smettiamo Il maestro è Marzano classico ovviamente 250 l'ha preso in culo, kek 100 all'altro Il maestro Regatatemi una mano Oh boy No, Zano manca a pagare a me Zano ha detto che Qua è sottata Va bene Pure Marzano Non ne voglio parlare Vabbè, questo mi ha sottato Ma ti rendi conto? Cazzo, sì No C'è un altro? No 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 Vabbè Ho capito Qualcuno ce la potrebbe anche chiamare E' vero Mushy Che sento qui Chi mi ha messo la piramide? Ma l'hai messo te? Non l'ho messa io Ma c'era già Ma cosa state facendo? Sto malissimo Sto malissimo Ma la stavo feccando Mi arriva la piramide La domanda è Perché non Ressians che metterà la piramide? Sto malissimo Oh mio Dio Ma la stavo feccando E mi arriva la piramide E mi ha trovato tutto L'edit Te l'ho dato Te l'ho dato Ah no Tieni, tieni, tieni Un altro passo Mi sta venendo l'ictus Ti giuro Una l'euro Oggi Oggi Sto per impazzire Non è possibile Non è possibile Frate Non è possibile La peste nera Sei un nuovo ceppo di peste nera Appena scoperto Il mondo però E' cambiato parecchio Negli ultimi Settecentosettanta anni Ok Come la facciamo Questa malattia Dobbiamo aspettare I punti dna Per me Per le abilità Però credo che questa sia una malattia Ragazzi Che se riesco ad accumulare I giusti punti E riesco a prendere Il giusto La giusta La giusta trasmissione Un'abilità bella Ragazzi Fa una Cioè Si riempie tutto subito Il contagio si espande Oh Messico Arrivati in Messico Raga Guardate La Francia ragazzi Sono morti tutti in Francia Siamo arrivati qua Che sono molto isolati Ragazzi Quindi vuol dire che Stanno andando abbastanza bene Io farei via aria E anche acqua Andiamo un po' avanti Vediamo cosa succede Se la cura va avanti Teniamolo ragazzi Per il rimescolamento genetico Oh fuck 68 punti La cura sta andando avanti Io adesso farei una roba così Guarda Abilità Abilità rimescolamento genetico Così si fa Anicolare Andiamo piano Raga Fermi 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 62% Dobbiamo ralentare lo sviluppo della cura Raga Per forza 2 miliardi di morti Raga Cioè Una persona Quando si ammala Muore La cura è decelerata tantissimo Stiamo vincendo raga Stiamo super vincendo Ragazzi sono Il boss finale Sto videogame Ma scherziamo Ma in Nuova Guinea Non è arrivato raga Perché Sono vivi in Buona Nuova Guinea Ma anche in Nuova Zelanda Sono Il boss finale Sto videogame In Francia Che aveva partito Tutto su tutti i morti In Cina Sono in un miliardo The Quater Sono morti Nelle sud-est Asia Sono morti Tutti Nelle Filippine Sono morti Tutti In Giappone Sono tutti morti Qua ragazzi Sono tutti vivi No L'Alaska Qua sono tutti morti Raga Tutti morti Però Ragazzi C'è Orchaccio Due Questa è un'arma Questa è un'arma Per chi non è un cecchino Cioè questo è un cecchino Per chi non sa fare il cecchino E ti fa sognare Capito Cioè quando mi metto a fare le cecchinate qui E faccio qualche doppia Così mi sento uno sniper Anche se non lo sono Solo perché l'arma è velocissima No è scappato il terzo Lo stronzo Oh Cazzo L'ho preso Non ci posso Mi clipate sta roba C'è un carro lì Non so se la Fermati Ma che cazzo Ma come si muove Questo è un pazzo Oh Triplo collateral What the fuck Guarda Ho fatto la sfida Una sfida ho fatto Oddio 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 Raga Raga Ragazzi No ve lo giuro su dio No raga 11 kill di colpi a distanza In una Cosa è appena successo Raga Che cazzo Si è flipato Mi sono spawnati in 200 al centro Ma fa caso Questa cosa la metto su youtube Palesemente Cioè Palesemente si Arrivete si Tu continuo a andare a fare colpi a distanza Mi continuo a challenge Ragazzi 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 Questi sono tipo delle scimmie Scimmie Sono le banane Su quel cazzo di Edglic Guardali Guardali Avvelenati Cristo Dio Incredibile Grazie Cabone Per i due mesi But you must keep going Stick it out Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti